Crescita del volume dei dati, complesse migrazioni, eccessiva latenza, downtime dello storage. Quanti problemi risolvono le soluzioni SDS? Scegliere di virtualizzare lo storage ti consente di avere un'infrastruttura flessibile, organizzata in pool, scalabile, con una capienza degli storage bilanciata e ottimizzata. Tutto ciò è sufficiente per garantire continuità operativa? O no, se non riesci ad attuare un presidio costante? Scegli il nostro servizio gestito Lion SDS, gestione H24 7 su 7, del tuo datacenter virtualizzato. Massima protezione, massime performance, riduzione dei tempi e costi dell'IT. Come funziona Lion SDS? Stay tuned sulla nostra community.